Buonasera a tutti, finisco di pettinarmi i baffi e ritorno. Un attimino. Ad esempio, quante volte abbiamo sentito Nemorino nell'arci conosciuta furtiva lairina? Questo personaggio che è così sincero, che arriva e senti una furtiva all'agrima, negli occhi suoi spunto. In realtà, lui, quello che c'ha dentro, quello che gli fa vibrare è... In il barro l'agrima si è formato la corredera, in il barro l'agrima si è formato la corredera. Allà fuero i bomberi con la campana e la sirena. Un solo instante il palpitino, nel suo bel cor sentire. Il barro l'agrima si è formato la corredera, in il barro l'agrima si è formato la corredera, in il barro l'agrima si è formato la corredera. Il barro l'agrima si è formato la corredera, in il barro l'agrima si è formato la corredera. Ditele di no. Caro, hai iniziato oggi con i soliti esercizi, vero? Sì, amore, sì, sì, sì. Ad esempio, un altro grande esempio di personaggio, il Don Pasquale, l'Ernesto di Don Pasquale. Quella famosa serenata alla fine, quasi alla fine opera. Com'è gentil, la notte a mezzo aprile, e azzurro il cielo, la luna è senza ver. Quando se quiere devena, come te quiero io a ti, è impossibile mi cielo, Tant separato, tan separato vivi. Quando se quiere devena, come te quiero io a ti, è impossibile mi cielo, Impossibile, mi cielo, tan separado, tan separado, vivi. E questo è quello che vorrebbe cantare, vedete? Tutte queste canzoni a me mi hanno accompagnato tutta la vita, fin da quando, perché io sono dalle isole Canaria, fin da quando era piccolo, da età non di settima, ma aveva marcato la vita. A tutti noi è il personaggio più universale che può esistere, uno dei più universali, c'è il tutto, tutta la sua musica, la sua anima, il suo sentimento è dappertutto, che tra l'altro è un sentimento umano, dalle persone. Molto bene caro, adesso mi prendi un po' di do per favore, andiamo su, su ragazzo, su. Si, 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 si amore, si, studio, si, si, si. Un altro, un altro, un altro, il tonio, Fidio Goyungo, sentite. Non fa una pieda. La farola del mar, perché è così contento di entrare in questo reggimento che alla fine sarà vicino alla sua amata. E' così allegro e contento, ma così innamorato alla stessa volta. Allora, cuarta... Pues... Tus ojos... Que son mi alegría... Tus ojos... Que son mi esperanza... Por ello mi alma sospira En un tierno arrugio, arrugio de amor Sì, buonasera, potrei parlare con il maestro Fizza? È al bello che parla Ah, maestro Fizza, buonasera Qui tutto bene, non si provi Le assicuro che ne canteremo un benissario indimenticabile Aspettate un attimo No, io dico, eh Che stai a fatto sta chitarra? Mettita a studiare Ah, maestro Fizza, come diceva, tutto sotto controllo Ah, sì, cara, mi saluti tanto il Michele O segui, o segui a vederla La moglie del tenore Ma Mi tenere Mari Mi tenere 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 Lui